il comunismo sovietico era tutt'altro che antitecnico tutt'altro anzi Soviet più elettrificazione la Cina comunista aveva invece propensioni diverse finché c'è stato Mao ecco, cioè da una parte c'era un investimento sull'industrializzazione ma insomma c'era l'idea che se entri in quel cammino poi ci sono delle coazioni per cui un ingegnere diventa più importante di un operaio e allora ogni tanto Mao faceva voltava i cannoni contro il quartier generale, cannoneggiava il quartier rivoluzione contro se stesso naturalmente estremamente costoso estremamente costoso invece che fare un'immensa acciaieria fare le acciaierie in casa no? disastro strepitoso poi arriva quell'anima santa di Deng Xiaoping che fa la più grande rivoluzione della seconda metà del novecento e dice basta con gli scherzi il gatto deve prendere i topi non ci interessa il colore del gatto e dunque cinesi che sono un popolo intelligentissimo e laboriosissimo vengono cortesemente invitati a entrare nel mondo della tecnica occidentale che è quello che si può fare direi con grande successo prima di loro c'erano entrati giapponesi la tecnica nasce in occidente con la distinzione platonica tra apparenza ed essenza certo ma è vendibile come insieme di tecniche a chiunque sia un essere umano hanno comperato la tecnica non hanno comperato la filosofia che c'è dentro hanno imitato e anche molto bene la tecnica non la filosofia dice tanto l'ingegnere sarà anche più importante dell'operaio ma più importante dell'ingegnere il funzionario ripartito vedrai che finché ci siamo noi i vostri problemi non li abbiamo questa è tutta un'altra storia perché c'è il caso che invece ne abbiano di più perché per la prima volta nella storia i ricchi non possono avere il potere politico in Cina e i ricchi di ciò si dispiacciono diciamo così ecco al momento cercano di corrompere il politico forse verrà il giorno in cui fare una rivoluzione non lo so ecco però al momento il concetto è il potere è nostro i soldi possono anche essere nostri le gerarchie nell'ambito economico si formano perché un ingegnere deve prendere uno stipendio più alto di un operaio e un capitalista è bene che guadagni però non c'è solo l'economia non c'è solo la scienza applicata non c'è solo la tecnica c'è anche la politica e lì garantito comandiamo noi e basta però questo lo possono fare solo loro perché hanno sempre fatto così sostanzialmente abbiamo abbiamo venduto la tecnica al resto del mondo a volte quello il resto del mondo se ne è anche appropriato diciamo non gli abbiamo venduto il travaglio teorico che con cui è nato è nata la tecnica cioè gli abbiamo venduto la tecnica e non gli abbiamo venduto l'individualismo moderno da noi la tecnica è nata ce l'avevano anche i romani la tecnica ma la tecnicizzazione del mondo nasce insieme alla individualizzazione del mondo poi l'individualizzazione del mondo viene negata dalla tecnica loro non hanno questo problema perché non hanno mai avuto la individualizzazione del mondo però la tecnica si esporta facilmente non abbiamo esportato l'individualismo non abbiamo esportato la democrazia però la tecnica si tutte queste discorsi qui sono discorsi come come ho tentato di dire sulla tecnica come destino dell'occidente non come destino dell'oriente non ne sappiamo niente dell'oriente non ragionano come noi non hanno bisogno di una filosofia per agire si autodefiniscono pragmatisti non hanno bisogno di giustificarsi è già giustificata l'esistenza umana non c'è bisogno di stare a pensare perché c'è e che cosa c'è essenzialmente la tradizione la tradizione dagli antenati a quel che volete voi il tessuto c'è già guardate la Cina guardate il Giappone c'è già il tessuto non si lacera non si lacera gli puoi buttare delle bombe atomiche sulla testa non non si lacera non una rivoluzione cristiana e una rivoluzione luterana non la fanno neanche a morire non hanno l'idea del soggetto non hanno l'idea della libertà del soggetto e dunque non vanno nemmeno incontro alla tremenda delusione di vedere il soggetto e la sua libertà mangiati dal prodotto del soggetto e della libertà cioè della tecnica con cui dovevamo insignorirci del mondo non ce l'hanno perché questo mondo è un mondo diverso non sono peggiori o migliori di noi sono semplicemente diversi per cultura per tradizione e dobbiamo imparare a far sì che in questo mondo esistano e si sopportino a vicenda civiltà diverse pensa te che novità per cui la occidentalizzazione del mondo non c'è c'è la tecnicizzazione del mondo sì ma è una tecnica adoperata da civiltà diverse una tecnica che per noi è un angoscioso problema per loro no angoscioso problema torno a dire insolubile finché lo prendi come il problema della tecnica se lo prendi come il problema del dominio che nella tecnica si esprime e che in parte è fatto di coazioni intrinseche alla tecnica ma in quelle coazioni noi sappiamo che ci va a finire dentro anche una forma di dominio che costituisce il tessuto della nostra società che è il dominio economico così un po' almeno concettualmente sbrogli la matassa che altrimenti ti si presenta come veramente non risolubile in alcun modo quando sentiamo il discorso critica della tecnica chiediamoci ma è davvero la tecnica il problema o qualcosa che della tecnica si serve che con la tecnica si impasta non c'è una tecnica assoluta pura adoperata da un malvagio capitalista c'è una tecnica come veicolo di vettori di dominio alcuni alcuni sono della tecnica certamente altri no good non c'è una tecnica